Siete immersi nella luce. La voce interiore attraverso Roberta S. a cura di VB guide. Tutto quello che fate fa parte della vostra esperienza. Se lo fate con una certa presenza mentale, emotiva, psicologica, sarete in grado poi di essere del tutto presenti a voi stessi e distinguere quindi il bene dal male, come lo chiamate voi. Il bene, quello che voi volete per voi, e il male, quello che non volete. Semplicemente questa è la distinzione fra questi due poli, che appartengono alla vostra vita e che non dovete scacciare pensando che tutto è bene a tutti i costi. No, noi vi diciamo che è vero che siete immersi nella luce, ma che tutto ciò che è di quella luce non capite lo considerate male. E allora per quel male, noi vi diciamo che prima di portare la luce, dove non riuscite a vederla, dovrete essere in grado di riconoscere quella che già sapete apprezzare, come un qualcosa di onnipresente nella vostra esistenza. Grazie. 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 Grazie.